Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Per lui non è quello di commissario. Boccia e poi arrivo da Mauro Mazza. Intanto mi chiedo di aggiornare la tabella perché le risorse stanziate sono 1,7. Di queste 530-540 milioni sono le risorse in più. Le uniche risorse nuove che il governo ha messo a disposizione sulla vicenda Emilia Romagna sono 530-540 milioni. L'altro miliardo e cento sono risorse tolte ad altre realtà, ad altri territori e date opportunamente in questo momento l'Emilia Romagna che è l'emergenza massima. Ma dovranno essere rimesse quelle risorse lì. Lo dico perché altrimenti facciamo come i carri armati di Mussolini. Spostiamo da una parte all'altra, le risorse sono sempre le stesse. Lo dico perché quello che ci dice il sindaco di Ravenna è la cosa più seria di tutte. Dove sono le risorse per la ricostruzione? Che non possiamo dire faremo tra sei mesi perché alcune strade di collegamento... No, no, le rifai adesso oppure... Le risorse messe a disposizione soprattutto per gli ammortizzatori sociali, che ovviamente loro non vorrebbero utilizzare perché significa che le imprese sono ripartite, vanno benissimo, vanno utilizzate e le stiamo togliendo ad altre disponibilità. Noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, noi questo decreto vogliamo migliorarlo, abbiamo fatto, stiamo facendo tra l'altro con i sindaci una serie di proposte. Abbiamo anche detto se serve fare uno scostamento di bilancio facciamolo, ma di quei 7 miliardi stimati mettiamone almeno la metà in una disponibilità immediata, dopodiché il commissario serve e il commissario, lo ribadisco, non ha un nome o un cognome, è il rappresentante di una istituzione. Non la pensano così, sempre il governo, il ministro Musumeci... Beh, e lì penso abbiano già dato... Mauro, boccia non mi ha risposto.